Il tema del reinserimento e integrazione delle persone con disabilità è per l'INAE l'obiettivo principale in questi ultimi anni e l'INAE si è particolarmente occupato di questo tema attraverso delle misure di sostegno che sono finalizzate a sostenere le persone con disabilità da lavoro attraverso una serie di interventi che sono stati disciplinati dalla legge e che l'INAE si impegna a portare avanti. Ma un'altra attività su cui l'INAE si sta cimentando, sta lavorando è quello di costituire nell'ambito dell'istituto anche la figura del disabilità di mano per tener conto anche delle persone con disabilità che sono dipendenti dell'istituto che hanno bisogno di interventi di integrazione lavorativa e su cui l'INAE sta cimentandosi a lavorare, sta realizzando delle linee guida per cercare di venire incontro anche ai nostri colleghi con disabilità. Grazie